Ciao, mi chiamo Marco. Ciao, mi chiamo Marco Sanavio. Anche tu? Beh, sai, io nella mia attività mi occupo anche di formazione dei giovani all'uso critico degli schermi digitali. Anche io mi occupo di educazione dei giovani all'uso critico degli schermi digitali. Senti, se c'è una cosa che io adoro, adoro, adoro è quando i miei amici siciliani mi mandano una cassetta di limoni e allora posso toccarne la superficie rugosa, posso annusarne il profumo, l'italio e gusto l'aspro dei limoni in bocca. Anche io adoro addentare i limoni per sentirne il sapore aspro. Ecco, no, questo non lo puoi fare. Se le prime due cose che ho detto teoricamente potevi farle, per esempio nella digisfera tu potresti essere una mia telepresenza, che ne so, in pediatria dove io non posso entrare nelle stanze sterili oppure in un'aula di scuola dove io faccio formazione dei ragazzi, però i limoni non li puoi gustare e soprattutto tu in questo momento non hai coscienza di esistere. E c'è un percorso molto interessante e recente rispetto alla fiction che racconta di un parco collocato tra le montagne rocciose e il pacifico nel West, e si chiama Westworld, all'interno del quale ci sono degli avatar sintetici molto evoluti. E questi avatar sintetici possono essere distrutti, possono essere uccisi, violentati, perché durante la notte vengono ripristinati e viene loro cancellata la memoria. Però c'è un problema. Dentro questa vicenda gli avatar un po' alla volta acquisiscono la coscienza. Dentro un labirinto, un dedalo di coscienza, rischiano di diventare più intelligenti del loro creatore che in questa fiction è il dottor Ford impersonato da Anthony Hopkins. E quindi è quella che noi temiamo come singolarità tecnologica, cioè la creatura che a un certo punto si ribella alle regole del suo creatore. Allora, partiamo dall'inizio, proprio da principio. Adesso ho visto una tecnica che ho usato prima un relatore e vorrei tentarla anch'io. Vi faccio una domanda. Allora, quanti di voi, alzate la mano, se avete la tecnica dei motivatori, alzate la mano, quanti di voi avete sentito parlare della vicenda di Adamo ed Eva? Sulle mani? Buono, direi che questa è quasi universale. Adesso però andiamo dentro la vicenda. Allora, nella Bibbia c'è un libro che si chiama Genesi, che racconta la cosmogonia, l'inizio del mondo. E dentro questo libro si narra la creazione di Adamo, inteso come genere umano, e si narra nel primo capitolo. E poi nel secondo capitolo si narra di nuovo la creazione di Adamo, come se tutto quello che c'è stato nel primo capitolo non fosse mai avvenuto. Quindi viene narrata due volte la creazione dell'uomo. Quanti sapevano questa cosa? Sulle mani? Qua già il numero si sta rastremando, quindi è una vicenda complessa di cui magari non si è letto tutto, non si è sentito parlare del tutto. E la terza cosa che volevo chiedere, poi ho finito, è questa. Quanti hanno sentito dire che nel giardino di Eden c'erano due alberi? Uno era l'albero della vita, di cui si poteva mangiare. L'altro era l'albero della conoscenza del bene e del male, che però era stato vietato da Dio. Quanti sanno che gli alberi erano due? E anche qui, progressivamente, ci riduciamo. Però è così, gli alberi erano proprio due. E la cosa che mi ha colpito tantissimo leggendo questo primo libro della Bibbia, che al di là del fatto che uno creda o non creda, rimane un'opera letteraria di altissimo valore. Quindi fermiamoci anche solo all'opera letteraria. C'è un suo studioso, un esegeta del VI secolo, che si chiama Procopio di Gaza, che getta uno sguardo originalissimo su questa vicenda. Provo a descrivervelo. Allora, Procopio dice, quando un re voleva affermare la sua presenza rispetto a una popolazione, metteva delle statue, per esempio, nelle città lontane. Oppure le metteva al limite del giardino, per dire che anche quando il re è occupato in un'altra attività, il re dorme, o il re in qualche modo è impegnato in battaglia, la sua statua, il suo avatar, è presente. Quindi è un problema di presenza. Ora, la cosa interessante è che anche il dio di Genesi fa una sua statua e la fa, siccome deve essere lui e la sua telepresenza, la fa a immagine e somiglianza. Ora, qui, con Marco piccolino, forse sono andati vicino per via della statura, ma per il resto c'è ancora della strada da fare. Mentre il dio di Genesi, la sua statua la crea da una parte, vedete Bet Salmenu, e vedete alle mie spalle il termine ebraico che indica questo c'è a nostra immagine, quindi proprio una copia conforme. Però poi, dice il testo di Genesi, Chidemutenu, cioè il creatore prende un po' di distanza dalla sua creatura, quindi è secondo la nostra somiglianza, ma tra il creatore e la creatura c'è una differenza. Ora, i sovrani antichi mettevano le loro statue di fango, di terra, di terracotta, come a Adam, che è una statua di terra color ocra, le mettevano nel giardino. Ma il dio della Genesi fa una cosa straordinaria, soffia nel naso di questa statua nell'operazione di rianimazione che ben conosciamo, soffia nel naso per darle la vita. E pensa un po', la parola spiritus vuol dire proprio soffio. Cioè, è chiaro che quando la vita entra dentro un essere umano comincia a respirare, e quando la vita se ne va esaliamo l'ultimo respiro. Quindi, spiritualità, spiritus, vuol dire che c'è qualcosa di profondo, di vitale, che ci anima, che ci rimette al mondo anche dopo tutte le fatiche della vita. Però c'è qualcosa che non va. Per cui, questo Adam e la sua compagna si ribellano a Dio, mangiano di un frutto che non è una mela, ma è un frutto, e improvvisamente scoprono che hanno sbagliato, che hanno trasgredito una regola e sottraggono la loro presenza. Cioè, pensano di risolvere le cose togliendo la telepresenza. Ma Dio fa loro una domanda. Dove sei? Mi ha impressionato questa domanda, perché nel 2005 ho letto un saggio di Maurizio Ferraris che si intitola proprio Dove sei? Ontologia del telefonino. Beh, concediamogli questa parola a telefonino, perché siamo nel 2005. E lui dice, sai, questo strumento che è entrato nella nostra vita per distribuire la presenza sta creando un'ontologia delle cose diverse, degli oggetti sociali diversi. Ci stiamo muovendo in un sistema di assi cartesiani che è sotteso tra immaginazione e sapere, tra soggetti e oggetti. Cioè, sta proprio cambiando quello che noi riteniamo l'essenza delle cose. Se Heidegger diceva l'esserci nel mondo, a lui viene da dire l'esserci per il telefonino. Va bene, allora, la nostra presenza risulta oggi sempre più distribuita, perché è chiaro che attraverso i nostri dispositivi digitali siamo presenti in molti posti e possiamo essere anche presenti contemporaneamente in diversi luoghi, ma è anche di ferita, perché per esempio io potrei dare a Marco delle istruzioni adesso e lui potrebbe eseguirle durante la notte. Quindi la mia presenza continuerebbe anche quando io dormo come proprio quel re che aveva messo la sua statua nel giardino. Ma è una cosa incredibile. Pensate, Derrick De Kerkhove, che è un pensatore moderno, che mette insieme un po' la tecnologia con l'impatto che quest'ultima ha sul genere umano, ha detto una cosa. Se nell'era pre-elettrica, per noi occidentali era fondamentale vedere per percepire la presenza, l'era elettrica ha modificato questa idea e quindi abbiamo acquisito una percezione aumentata, una tattilità aumentata dall'elettricità e quindi non era più un punto di vista ma un punto di essenza, beh, oggi a me verrebbe da dire che tu ci sei, vieni completato nel tuo essere da un punto di connessione. Bene, siccome questo è faticoso, allora abbiamo immaginato di governare un po' la presenza. Per aiutare i più giovani, con la dottoressa Luce Maria Busetto, una psicologa, psicoterapeuta, abbiamo inventato un metodo molto semplice, dove noi ascoltiamo le persone e quindi in qualche modo i più giovani possono dirci dove sono, chiediamo loro dove ti stai collocando in questo momento, che sogni hai per il tuo futuro, che cosa ti crea dei vuoti dentro. Poi trasliamo la loro presenza in una fase simbolica, poi passiamo a un momento di riappropriazione, dove uno deve rendersi conto che ha perpetrato qualcosa di dannoso nei confronti dei suoi simili, dei suoi pari, quindi devi prendere coscienza che la tecnologia ti ha creato anche qualche disagio. E poi alla fine una fase autonormativa, dove loro stessi decidono come regolare la loro presenza nella digisfera. E per gli adulti? Per gli adulti, proprio nel maggio 2018, abbiamo lavorato insieme con teologi, con filosofi della scienza e con esperti della digisfera alla dichiarazione di Padova. Pensate, è venata proprio qui ed è una serie di indicazioni per prendere, per assumersi una responsabilità nell'ambiente digitale, per essere educatori dei più giovani, per fare attenzione a tutti quei fenomeni della vita nel digitale che possono andare dal gioco d'azzardo, che molte volte svuota gli averi, le casse delle nostre famiglie, fino al cyberbullismo, sino al furto di dati, perché proteggere i dati dei più giovani e dei più anziani oggi è indispensabile, perché qualche volta li carpiscono e loro non sono in grado di difendersi nella maniera adeguata. Ecco che allora questa dichiarazione è un primo passo, un sasso gettato nello stagno, perché l'etica del digitale ci possa in qualche modo consentire di vivere bene in questo pianeta. Beh, qui siamo a Padova e giustamente siamo nella città di Sant'Antonio che chiamiamo il Santo senza nome. Pensate che proprio lui, un giovedì santo, mentre stava predicando nella cappella di San Pietro al Quadrivio, nel castello di Limoges, forse aveva un'agenda con dei buchi, gli venne in mente che doveva essere invece nel coro dei frati a proclamare una lezione. Quindi apparve contemporaneamente in due posti per poter predicare il giovedì santo e per poter tenere la sua lezione e non mancare di parola con i frati. Questo si narra nella vita rigaldina, che è una delle biografie del santo, ma se da una parte è affascinante e a me piace moltissimo distribuire la mia presenza negli schermi digitali, mi piace distribuirla anche attraverso degli avatar, degli automi, ho scelto per questo talk di spogliarmi di tutti i miei dispositivi digitali perché volevo gustare la vostra presenza ed è stato un bel regalo. E poi un piccolo dono da parte mia, volevo essere qui tutto quanto per voi senza distribuire la mia presenza, nei limiti che mi consente la mia pelle. E quindi per me è stato bello. Qualche volta bisogna darsi anche dei limiti nella ibris che vorremmo avere, restare nella nostra presenza e forse riuscire a regolarla un po' di più ci fa anche bene. Grazie.